Buonasera, sono Giussi, volontaria del Servizio Civile Universale presso il Centro Studi Futura Progetto Chiara Corbella Petrillo, sede di Cosenza. Io e i miei colleghi volontari stiamo provvedendo alla realizzazione di una mappa dei bisogni relativamente alla carenza dei servizi presenti sul nostro territorio. Abbiamo deciso di somministrare un questionario alla relativa utenza. Qualora foste interessati a partecipare a tale iniziativa non esitate a contattarci nei nostri canali social Facebook e Instagram di cui postiamo il link in descrizione.